Noi stamattina siamo stati anche tra i tifosi che si dicono increduli, sgomenti per quello che è successo, addirittura il tifo organizzato catanese non si è voluto esprimere, vuole aspettare, vuole conoscere quello che c'è nell'inchiesta della Procura di Catania. Sentiamoli. A sostegno di una fede, sembra quasi beffarda questa scritta davanti alla biglietteria dello stadio Angelo Massimino, un fulmine a ciel sereno per una tempesta che si abbatte in piena estate, facendo crollare l'unica certezza rimasta al popolo rossazzurro, il calcio Catania. Sguardi persi nel vuoto, incredulità, ma anche consapevolezza che quel giocattolo, chiamato Catania, stava per rompersi, forse perché negli ultimi tempi era finito nelle mani sbagliate. Lo aveva denunciato più volte la tifoseria che oggi ha avuto l'amara conferma. Arrestati Bulvirenti e Cosentino. Non siamo sorpresi. Una cosa vergognosa, non c'è dubbio che stiamo andando di male in peggio. Ovviamente a pagare il prezzo più salato sono i tifosi. Ovviamente sì, perché i poveri ragazzi spendono un sacco di soldi per fare l'abbonamento, andare fuori con il pullman, la macchina, sostengono delle spese e poi sono delusi perché c'è questa situazione che fa veramente schifo, è impressionante. Questa notizia ci ha fatto molto male, ma molto male. Ci fa riflettere del silenzio che ha avuto in questi mesi la presidenza. Una cosa è certa, a pagare il prezzo più salato sono i tifosi, come sempre. E ancora una volta si testimonia come ormai c'è solo business attraverso il mondo del calcio. Questo qua sicuramente ha colpito tutti i catanesi e la città di Catania e soprattutto anche ha colpito il mondo dello sport. Ovviamente del comportamento del Catania che è stato durante quest'anno e nelle ultime partite io penso che i catanesi, anche tutti gli sportivi, hanno immaginato qualcosa, che succedeva qualcosa. Significativo il messaggio postato su Facebook dai sostenitori della Curva Nord. Onore a noi che non ci siamo venduti e che abbiamo denunciato il disastro Catania già un anno fa. Il prezzo da pagare sarà alto e lo pagheremo. Molti tifosi intercettati nei pressi dello stadio Massimino e a Piazza Dante hanno preferito non fare commenti. Il silenzio in questi casi vale più di mille parole. E intanto torna alla mente una data, 31 luglio 1993, che oggi appare molto simile al 23 giugno 2015. In ogni caso si ripartirà da qualunque categoria, onesti e puliti, come si legge in uno dei tanti messaggi. Catania, siamo noi.